E' un po' l'eopard Ma questo è veramente devastante Questo è quello che aggancia i... No, utilizziamo questo qua, lo Stormhawk Vediamo un po' che succede Ok La missione 8 è stata veramente bella Quella precedente di tipo navale E' stata fantastica Proprio ricca d'adrenalina Mi è piaciuta una cifra Però con la missione non abbiamo sbloccato nessun elicottero Poi voglio vedere una volta che abbiamo completato il gioco Quante skin e quanti elicotteri si possono sbloccare Poi non so se dipende anche dal tipo di difficoltà Bene signori La squadra Direwolf è riuscita finalmente ad ottenere Delle informazioni utili dall'equipaggiamento del sottomarino Sembra che le forze del serpente stiano cercando di scatenare una guerra tra le fazioni Per rubare una testata nucleare durante il caos conseguente Cosa abbia intenzione di farne non lo sappiamo Non sappiamo neppure dove si trovi la testata che vuole rubare Perciò coopereremo con la polizia locale Scorterete un convoglio di rifornimento di materiale sensibile fino alla base Dove in cambio vi forniranno una squadra di specialisti e la posizione della testata Max dobbiamo recuperare quella testata Buona fortuna Ok andiamo a recuperare questa testata nucleare Medio Oriente 1991 Prevedo forte azione Più che altro testata nucleare E rischi esagerati Quindi sarà una missione anche molto delicata Allora usa il visore notturno quando è troppo buio Che sarebbe questo qui Però io ci vedo anche ancora abbastanza bene Quindi si vede abbastanza bene anche senza visore notturno Quindi al momento io lascerai senza Questo che cavolo che spunta qui dall'angoletto Salute del convoglio che dobbiamo proteggere Questi che spuntano ovviamente da ogni Scusa Scusa Se me li fai secchi mi fai un favore Perfetto 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 Sono tutte guardie Accampate a piedi Quindi ecco Perfetto 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 quanto ci vuole per distruggerlo, non si sa, perfetto, manca tantissimo, aspetta che ci stanno sparando da ogni dove, ok, distrutto, la sala del convoglio mi sembra anche abbastanza tranquilla, e vabbè, se sei un asso mi sembra un po' esagerato, me la cavicchio, non so se sei un asso, questi, scusate eh, nel senso sono passato qui, non c'eravate, da dove cavolo siete spuntati questi edifici? allora, aspetta là davanti se succede il panico, stanno un mare di guardie, su, 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 tutti, tutti a ruota, tutti a ruota, vai, 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 ok, bombs, questo che cavolo che ci segue, su, perfetto, perfetto, guida la strada, ok, saluto del convoglio buonissima, bene, siamo arrivati, ah, dentro che è? Un campo sportivo, che forza, ok, andiamo a prendere le forze da recuperare, recupererà la squadra di scienziati, e per forza con la testata nucleare, perché, gli scienziati ci servono come il pane, guardate, già con, tutte le, le, le cose, le tute, le, i caschi e quant'altro, perché ovviamente si rischia sempre la, radiazioni e quant'altro, non è una cosa, quindi bello, caricati, gli scienziati, e adesso andiamo a recuperare la testata, Allora, io utilizzerei già qualche missile di questi qui, ma, dove stanno? Sopra, le strutture di sedifici che stanno costruendo, che cacchio, stanno ovunque, perfetto, aspetta, che, a te, ti faccio secco, ok, aspetta, vieni qua, Oh, mamma mia, è venuto giù il palazzo, dai, mi sto perdendo un po' di energie, trovo la testata, ma prima, oh, chi è che mi ha colpito? Più che altro mi farei prima, tutti questi avversari, perché sennò veramente, voi, voi, voi sto morendo, voi sto morendo, voi sto morendo, perfetto, le cura un po' di voi, ecco un altro missile mi ha colpito, Poi, giù, 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 ok, questo qua, questo qua, questo qua, adesso cecchini camperati, sopra, perfetto, ok, ci rimane questo qui, che adesso mi ha stancato, su, buttalo giù, che prima mi butta giù due a me, Ok, ok, chi è, chi è che sta arrivando, bel colpa, andiamo, ah, c'è pure l'attacco quello forte, adesso iniziamo subito, oh, mamma mia, che devasto, che devasto, Ancora questi qua che lanciano i missili, maledetti, ed è proprio stancato, che cacchio, infatti mi sono reso conto che è una vita falsa, perché ci stanno massacrando, ok, oh, 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 maledetto, tu e il lancia missili, scappa, 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 perché non me, non me lancia i clear quando lancia i missili, che cacchio, scappa, perfetto, poi, mannaggia, sta massacrando questo qua, aspetta, aspetta, che cacchio non riusci a scappare, Ma, mannaggia, perché passando in mezzo a tutti questi edifici è difficile prenderlo, che cavolo, ok, quelli lì, oi, 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 mi hanno preso, mi hanno preso, su, su, cacchio, gira un po', voglio, butta giusto, cacchio, le coso, maledetto, manca, manca tanto, L'altro è tosto, che cavolo, poi, andiamo un po' su di vuota, aspetta, aspetta che ricambio missili, e mo ti faccio se non cominciare a scappa, ok, l'ultimo è vicino a quel campo, lo vedi, andiamo, Allora, questi con le mitragliette, li buttiamo giù con molta facilità, perfetto, perfetto, vai, 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 ok, ok, perfetto, andiamo, ok, perfetto, andiamo, qua che cos'è? Dobbiamo fare, atterrare, ah, fa tutto da solo, che succede? Con quel camion, che è quello che porta la testata? Ecco lì, sì, sicuramente, possiamo evitare di sparare al dispositivo? Sì, come cacchio vai? Recupera la testata, che cavolo, allora, devo sparare a tutto, tranne, devo stare attento al camion, ok, aspetta, ci stavano qua, che non se ne vada le scatole, boh, questi dentro le cose, questi sopra al tetto, bene, prendiamo questi qua, Aspetta, 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 vi faccio secchi, questo qua che sta a fa' qui, benissimo, ui, 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 aspetta, aspetta, che cavolo, mannaggia, che macello, ma che cavolo è, ui, ui, mamma mia, il camion che porta la testata che va a sbattare, le macchine, e buoni brividi, salta in aria un macello, cavolo, perché altro, per non ripartire, vorrei che, nel senso che si autodistrugge da solo, che cacchio sta a fa' quella cosa, la specie d'ambulanza che è andata, poi si è sbatta il camion, Questo l'abbiamo preso, cavolo, perché c'è stato lo sportello qua, dell'anta dell'elicottero, che mi dà, e chi ci sta sparando alla testata? Ui, 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 guarda quanti, guarda quanti, perfetto, guarda questi sopra sti detti, ok, stiamo attenti a non sparare la testata, ce ne stanno tanti là, Il fatto che l'angolazione dell'elicottero non mi permetteva di sparare, questi qua sotto, ok, allora, solleva la bomba e portata dalla stazione ferroviaria, Allora, andiamo giù, andiamo giù, chi è che mi sta sparando, chi è che mi sta sparando, ho preso, ok, andiamo alla stazione ferroviaria, dove lo dobbiamo mettere? Ah, fai tutto te? Ok, piano, piano, Pacco consegnato E adesso Arriverà il bello Infatti resisti fino a quando il timer verde raggiunge lo zero, difendi lo stadio Ok Benissimo Ci penso io a proteggere lo stadio Ok Andiamo di missili, mitragliatrici, di tutto e di più Ok Vai, 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 vai Questi, questi, chi è che ci sta dietro a sto cacchio? Nascosti dietro al palazzo, l'ho fatto crullare Ovviamente Questi qua Poi un po' di missili radiocomandati Vedo gente che sta cercando di entrare, ma non mi piace una cosa Quindi Vi faccio secchi Su, 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 non ti azzardare ad entrare Non siete invitati, o più che altro non avete il biglietto per entrare allo stadio, quindi Non potete entrare Un po' di missilini, così In amicizia Questo Cosa, tu? A te chi ti avrebbe invitato ad entrare? Benissimo Aspetta, questo? Ah, perché Penso era tipo aperto da una sola parte Invece, per cavolo, aperto da più parti Lo stadio Dai, dobbiamo resistere altri 35 secondi 35 secondi Aspetta che sta entrando qualcuno Da questa parte No, pure da di qua Che cacchio Il panico Il panico Eh, sì, resisto Ma state vedendo quanti ne stanno arrivando O nel senso li vedo solo io Sta arrivando il mondo Guardate quante unità rosse a schermo Io non so come cacchio posso fare Mancano 11 secondi Fortuna l'unità Alleate ancora hanno una buona salute Questo ancora mi rende tranquillo Però Guardate quanti ne stanno entrando Oh, per favore Arrivata la cavalleria Meno male Era ora, infatti Grandi Oh, devasto puro Perfetto Difendi lo stadio Ok Ma le c'ha Una bella ripulita Esiste ancora un po' Va bene Già che me ne avete levate un bel po' a video Già Mamma mia Il cacchio di siluro che spara in tre punti è devastante Proprio devastante Dai, unità terra Che vi faccio secche E mancano tantissimi Vedo Ok Qui sulla destra Più di cartone ne sono un po' Però adesso li buttiamo giù Vai Benissimo Questi Vediamo qualche di questi Di questi siluro Di radio Comandati Almeno Non li prendono Senza problemi Ok Perfetto Questi qui da terra E poi vedo qui Ah no ma stanno arrivando ancora gli altri Che cacchio Pensavo tipo fossero finiti Invece Oh cavolo Ma era un attimo tranquillizzato Invece stanno arrivando di più Chi più ne ha più ne metta Tutti allo stadio Ok Bene La vedo che sta entrando qualcuno Qui Eccolo Tu che cacchio Chi ti ha invitato a te Aspetta Che lo devo distruggere Ok Questi sono entrati Pura voi Chi mi ha fatto entrare Ok Non si è invito Vai Questa unità a terra Si abbatte facilmente Eccolo un'altra qua Facciamo qualche missione Ok Mettiamo completato Perfetto E anche lo stadio L'abbiamo protetto No perché sta andando tutto Sta esplodendo tutto Ah ok Vai 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 Andiamoci da qui Che anche lo stadio Sta saltando in aria L'altro Il nostro accampamento Qui Ok Un ago in un pagliaio L'abbiamo completata Vediamo se abbiamo sbloccato Ok Abbiamo sbloccato un altro elicottero Ci vediamo Al prossimo episodio Con la nuova missione Abbiamo sbloccato un altro elicottero